Giorni insieme a me Adesso passerei la parola alla più presente Angela Prota, cantante, che parlerà di questo video che andremo a vedere. No, perché per me è più significativo. Sono tre grandi composti dal grande compositore Roberto Praldin, che è un compositore di musica contemporanea. Lui ha scelto personalmente i tre testi di Bruno Mancini, che sono molto raffinati e intensi. Però la tematica è la morte. Allora mi è venuta l'idea di traumatizzare maggiormente questa tematica, girando questi video in chiesa, a cospetto divino. Ho scelto il più significativo, perché lui si rivolge con rabbia verso Dio, perché non capisce il senso della morte. E quindi della vita. Io ho chiesto alle suore di prestarmi la chiesa per fare questo effetto e ogni brano lo canto da punti diversi della chiesa. Anche io mi ribello nel cancale. E così mi ribello nel canale. Io mi ribello nel canale. Cielo, cielo Cielo, cielo Cielo, cielo Salute e solo, solo, a capa di io. Solo è una pasta per me e solo, solo, solo o solo, 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 viva una cosa e il sguardo. Sì, 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 sì. No was, no was, no was, no was. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, 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 sì.